Eccomi ragazze con l'ultima parte di questo video, allora, non sono luce, ma io magari spengo la luce Non vedo perché debba essere accesa, perché mi vedete meglio, secondo me senza quella luce lì, vabbè E' tubino, bellissimo questo qua, taglia 46, PA, preta portè, italiana 46, è un bellissimo tubino Guardate, midi, molto sciallo, semplice, ma elegante L'etichetta purtroppo si sta staccando, ma c'è ancora tutto foderato ed è tutto così tipo con le frange, pelosine, bellissimo Questo qui ragazze viene 3,90€, è un bellissimo capo da portare così da solo, con un bello stivaletto, fate un figurone Poi c'è una camicia vintage, anche questa è molto carina, particolare, per chi ama il vintage, taglia M Anche il tessuto è particolare, ha tutti i ricami sul collo e sulla taschina Il tessuto è tipo righine, adesso mi avvicino così, vedete meglio, guardate che bella È una M quindi siamo su 42,44€, viene 3,50€, guardate che bella taschina, bellissima E questa la potete sdramatizzare, io la porterei anche così sopra proprio, lei da sola, con sotto un bel jeans Però la potete anche sdramatizzare mettendola all'interno di cosa vita alta, molto più street style Cardigan panna, questo è un tre quarti, taglia media, SM, molto carino anche lui, semplicissimo, fatto così Viene 3,50€ e vedete è particolare perché sembra che abbia tipo il lungo, non lo so, è strano sul fondo Vedete, diventa così, particolare, bello da portare Se è chiuso che è aperto, lo porterei quasi anche come abito, se fosse una taglia 42 Cioè, su una taglia 42-40, secondo me è questa tipologia di cardigan Se volete renderlo diverso dai soliti, solito cardigan da mettere sopra le cose Da portare proprio come abito, con sotto ovviamente magari un body o qualcosa E questo qua che cade a mo' di abito, con un bello sfivale Avete fatto un outfit super carino Questa invece è una blusa a taglia unica, quindi fino a 46, bianca, molto semplice Con la manica così, viene 2,50€ con lo scolla B Tipo effetto raso, molto carino Tubino, questo qui è beige e nero di Artigli Dice a taglia 44, ma vi consiglio 42 perché non è così ampio Secondo me è un 42 La gonda, sembra un due pezzi ma in uno La gonda vita alta, nera, proprio tubino midi Molto carina, la parte qua sopra sembra proprio tipo un abitino di rinascimento in ottime condizioni Bello anche il collo, adesso lo portate così con sotto nulla Proprio lui da solo e magari sopra un giacchettino, un bolerino Un giacchettino di pelle nera, insomma, molto carino Questo vestito qua ragazzi viene 4,90€ E vi consiglio anche se c'è scritto 44 più 42 Questa mi fa ridere la taglia È una camicia della Kamayu che segna taglia 48 Ora, guardiamola insieme Cioè questa non è un 48 ragazzi, è un 42, 44 A me viene da ridere a leggere queste taglie Vabbè, è una camicia, una blusa nera, camicia Fatta così, molto fresca, molto semplice Di quelle da portare tutti i giorni Che risolvono tantissimi outfit E viene 3,50€ È davvero carina, sotto un po' di elastico Le manichine le potete tenere su Segna taglia 48, ma ripeto 42, 44, anche verso il 46 Ma assolutamente per il 48 lo ascoltino Assoluto Questo invece è un body bianco Penso sia tornato in vendita Taglia S, bellissimo Molto elegante, semplice e chic, diciamo Sexy anche al punto giusto Viene 3,50€ Ha questo bellissimo scollo AB Sotto ci dovete mettere un body, una bralette Quello che volete voi Ed è proprio un body E la chiusura che me la chiedete spesso del body com'è È fatta così Regolabile Classica proprio Molto carino Poi abbiamo un bomberino della Caffè Noir Tutto è possibile qua Che segna XL Questa è una M 44, 46 Nero Caffè Noir In tessuto tipo felpa Carina la parte qua Con tutti gli strass Caffè Noir sapete che fa anche linea di abbigliamento Questo viene 3,50€ È carino e particolare Poi vi ho preparato un outfit taglia 46 Che ho pensato Io mi vesto da così In realtà ho un outfit quasi similare E quindi ve lo propongo Come outfit ovviamente ve li vendo separati C'è il pantalone nero classico a vita alta Che è un 46 Molto carino Anche se all'elastico è molto comodo Con la riga Cioè veramente faccio fatica a farvi vedere cose nere Comunque ha la riga tipo del taglio elegante E viene giù a sigaretta E vi consiglio appunto un 46 Anche morbido E questo qua ragazze viene 3,50€ In ottime condizioni Ho un bel pantalone anche se non si vede E poi ho pensato di abbinarlo a questa dolce vita Gran sasso taglia 46 85 viscosa Bellissima Può andar bene anche a un 44 questa Tutta costine Mamma mia terribile Terribile nero Vedete tutta costine Bella elasticizzata Meglio stare lontana Bella elasticizzata E io ho pensato di fare un outfit Molto easy Molto semplice Questa infilata dentro Il pantalone sopra Sopra voi ci potete mettere un trench Una giacca di jeans Una giacca di pelle Quello che volete voi Molto carino Ovviamente li vengono separati E questa qua viene 3,50€ Vi sposa la dolce vita Abbiamo poi un abitino Questo tipo bianco e nero Taglia SM Vi consiglio 40,42€ Molto carino Lui nella sua semplicità Un mini dress Guardate che carino Mi avvicino Semplicino Scolla B Bello anche il materiale Perché è abbastanza elasticizzato Fresco e sotto Con un po' di igual Questo qua viene 3,00€ È un bello abitino Per tutti i giorni Avete uno stivale nero Tipo il mio Questo qui Da abbinare Infatti è un outfit Elegante Ma semplice Ed elegante Alla stessa maniera Pure un po' sexy E un po' ricercato Alla fine avete su solo un vestito Impreziosi temari Con degli accessori Sui toni dell'argento O neri Che siete a posto Ultimi due capi per oggi Maglioncino Anche questo vi consiglio Una S 40,42€ Tortore bianco a righe In ottime condizioni Molto carino È particolare Perché sotto l'inserto del voile Vedete Due in uno Fine, fine, fine Va benissimo Anche sul 42 morbido E dietro alla zip E viene 3,50€ Questo maglioncino Molto carino Ecco Almeno questo Riuscite a vederlo Non come le cose nere Che sono tesibili L'ultimo non per importanza Questo abitino scontato Di intimissimi tagli a S Bello anche lui Semplice Color nude Arriva sotto il ginocchio Mi piace tantissimo La particolarità Di questo fiore Tipo con paillette Vedete È carino lui Dietro semplicissimo Ed è scontato A 2,50€ Di intimissimi Da solo anche questo Vi completa l'outfit E io per oggi ragazze Ho finito Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi auguro una buona serata Buonanotte E noi ci vediamo Nel prossimo video Che sarà domani Dove vi preparerò Ancora dei nuovi arrivi Ciao 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 Ciao